Il comune di Pordenone rimborserà nei prossimi giorni chi aveva pagato lo scuolabus senza usufruirne a causa del lockdown. Gli interessati hanno già ricevuto dagli uffici comunali la richiesta di fornire l'Iban per l'accredito diretto sul conto corrente. Un'operazione a zero burocrazia che interessa 212 famiglie pordenonesi per un totale di 14.000 euro rimborsati. Il sindaco Alessandro Ciriani. Durante l'emergenza abbiamo sospeso il pagamento degli abbonamenti per chi ancora non aveva fatto, mentre le famiglie che avevano già pagate verranno interamente rimborsate. Come un'eatap erano pronte a rimborsare anche studenti e lavoratori abbonati al trasporto pubblico, ma è arrivato lo stop agli indenizi diretti da parte dei decreti statali. Noi in piena emergenza Covid avevamo chiesto ad Atap al presidente Gaspardo di rimborsare tutti gli abbonamenti sia dell'urbano che dell'extraurbano. Quindi per i lavoratori e per gli studenti. Questa è la consapevolezza che non sono tantissimi i ragazzi di Pordenone che prendono la corriera per andare fuori città, ma sono tantissimi i ragazzi che vengono a Pordenone. Questo con un indotto economico e sociale rilevantissimo. Atap ci rispose subito di sì. La misura sarebbe costata 735.000 euro, ma era assolutamente sostenibile. Purtroppo il decreto legge del governo però non consente alle aziende del trasporto pubblico di poter rimborsare gli abbonamenti, ma consente solo di trasformare quello che era il titolo di viaggio o in un voucher utilizzabile dallo stesso, direte, di persone interessate, oppure di allungare l'abbonamento quando servirà. Sono delle misure secondo me discutibili perché chi non ha fruito, magari sto pensando ai ragazzi che non andranno più a scuola, magari a quelli che non prenderanno più la corriera, francamente del voucher o del prolungamento se ne faranno poco, ma questa purtroppo è la legge.